anno 21. Io non saprei. Vi ricordate di nessun anno in particolare che vi paresse felice? No, in verità. Oh, eppure la vita è una cosa bella, non è vero? Eh, questo si sa. Non tornereste voi a vivere questi vent'anni e anche tutto il tempo passato, cominciando da che nasceste? Eh, caro signore, piacesse a Dio che si potesse. Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta, né più né meno, con tutti i piaceri e i dispiaceri che avete passati? No, non vorrei. Ma questo è segno che il caso fino a tutto quest'anno ha trattato tutti male. E si vede chiaro che ciascuno è d'opinione che sia stato più e di più peso il male che gli è toccato che il bene. Se a patto di riavere la vita di prima, con tutto il suo bene e tutto il suo male, nessuno vorrebbe rinascere. Quella vita che è una cosa bella non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce, non la vita passata, ma la futura. Eh, sì.